Seduta mattutina al campo di Febo di Silvi Marina per il Pescara di Zeman. Tra poco ascolteremo le parole del terzino destro romano Floriani Mussolini. Sul campo c'era anche Edoardo Vergani in stampelle ovviamente a guardare il lavoro dei compagni. Invece Niccolò Squizzato ha lavorato regolarmente dopo aver effettuato una risonanza all'anca. Per lui solo un ematoma sarà a disposizione del tecnico sabato pomeriggio contro il Sestri Levante. Indisponibile a Cornero sarà di nuovo pronto la prossima settimana. Ha lavorato a parte da gasso per un affaticamento dovrebbe farcela per sabato. Pellacani ha svolto una seduta differenziata a corso ma ha alzato i ritmi. Quindi sta migliorando il difensore centrale anche lui verso la convocazione per sabato pomeriggio. Allora adesso andiamo a sentire le parole di Romano Floriani Mussolini. Ad Arezzo una vittoria che spezza un periodo negativo insomma visto come era andata col Perugia sembrava davvero una maledizione ci serviva tanto. Sì sì venivamo da una partita giocata secondo me bene ce la siamo giocata fino all'ultimo contro il Perugia che era un ottimo avversario. Siamo stati sfortunati e quindi era molto importante fare il risultato contro l'Arezzo. ci siamo riusciti anche lì contro una squadra forte è una partita difficile e complicata e penso che abbiamo fatto un'ottima gara. Il Pescara quando affronta squadre che non si chiudono a riccio e provano a giocarsela raramente stecca. Normalmente gioca bene e fa anche risultato. Sì noi ovviamente facciamo quasi più fatica contro le squadre che tendono a chiudersi per fedeli spazi. Noi abbiamo un gioco molto propositivo e quindi logicamente se la squadra avversaria si chiude gli spazi non ci sono. Ovviamente dobbiamo adattarci a qualsiasi squadra perché dobbiamo giocarcela ancora con tutte le altre squadre che rimangono e come stiamo facendo contro il Sestri la stiamo preparando bene e cercheremo di fare risultato. Sestri e Pineto due partite in casa un'occasione per cercare di rosicchiare qualcosa a chi vi è scappato in avanti. Sì sì molto importante oltre per il molare per dare la continuità anche per la classifica. Noi cerchiamo sempre di ottenere i tre punti per metterci sempre meglio in classifica. Senti l'obiettivo a questo punto della stagione con Cesena e Torres che sono in fuga qual è? Quello di arrivare al terzo posto cioè il primo posto degli altri adesso è il terzo posto. Allora come ci dice sempre il mister noi non pensiamo troppo ai calcoli, pensiamo veramente partita dopo partita ma logicamente l'obiettivo è fare i più punti possibili perché se non dovessimo arrivare appunto stanno il Cesena e la Torres di classificarci nel miglior posto possibile per i playoff. Grazie. 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 Grazie.